I carabinieri di Bari durante una perquisizione in un magazzino nel quartiere Madonnella hanno scoperto un vero e proprio laboratorio della droga. Nel deposito sono state rinvenute infatti ingente quantità di eroina, cocaina, hashish e tre giubbotti antiproiettile. I militari erano all'opera per un'operazione antidroga e hanno quindi visto un 44enne pregiudicato a girarsi nei pressi del magazzino. Dopo averlo seguito per un po' hanno deciso di effettuare una perquisizione personale trovando una chiave. Questa è poi stata inserita nella serratura del portone d'ingresso e hanno notato che girava perfettamente. Entrati nel magazzino hanno poi potuto osservare che erano presenti ingenti quantitativi di stupefacenti, tra cui 100 grammi di cocaina, 100 grammi di hashish e 500 grammi di eroina. Sono stati rinvenuti anche alcuni attrezzi per il taglio della droga, un bilancino di precisione 430 euro incontranti e tre giubbotti antiproiettile. Tutto il materiale è stato sequestrato, mentre per il 44enne sono scattate delle manette. Grazie a tutti. Grazie a tutti.